Quest'Aula già si è espressa su questo argomento e la maggioranza ha votato questo atto. Rientrare nel discorso storico in quest'Aula, in questo momento, lo riteniamo inopportuno e riteniamo che questo invece sia stato un attacco vergognoso che sia stato fatto alla Consigliera Guerrini e alle sue opinioni personali. Non accettiamo che vengano presentati degli atti del genere in quest'Aula. Lo riteniamo grave che sia stata fatta un'azione del genere. La Consigliera Guerrini poteva tranquillamente esprimere la sua opinione come ha fatto, peraltro ha votato in difformità rispetto a questa maggioranza, ma noi riteniamo che quest'atto è veramente una cosa grave che sia accaduta in quest'Aula, per cui esprimiamo la nostra solidarietà alla Consigliera Guerrini e votiamo no a quest'atto. Grazie.